Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo su Akinator Allora ragazzi Akinator è un gioco che praticamente tu devi scegliere, devi immaginare un giocatore E Akinator ti farà delle domande con le quali devi rispondere per fare in modo che lui o riesce a trovare il giocatore o la persona che hai scelto oppure no Se riesce a indovinarlo ci batte ma se non lo indovina lo strafottiamo perché non riesce manco a indovinare uno che potrebbe essere anche facile Quindi potremmo anche sconfiggerlo Questa ragazzi non so se potrebbe diventare una serie perché essenzialmente Akinator lo potrei molto poco perché non è che provo tanto Però nel dubbio in cui mi arrivano delle idee da fare potrei portare Akinator qualche modo Quindi direi di iniziare, sfidami, perfetto Ho cliccato, perfetto Allora io ho già scelto la persona e in questo momento proviamo con un giocatore Allora io essenzialmente proverei a vedere a Marek Amsic il capitano del Napoli E vediamo un po' se lo indovina Allora il suo personaggio in dosabili abiti maschili Sì è un maschio Il suo personaggio è nato in Italia Teoricamente non lo so perché Amsic non è italiano Cioè è di un altro paese però è in Italia Essenzialmente non lo so Il suo personaggio esiste davvero sì Il suo personaggio ha a che fare con la musica Essenzialmente non so se fa musica Però dico non lo so Il suo personaggio fa parte di una serie tv che va in onda in super No No non fa Il suo personaggio viene dall'Australia No non viene dall'Australia Quello no L'ho scoperto grazie a Youtube no Il suo personaggio è un attore No Il suo personaggio ha partecipato agli amici di Maria di Filippi con concorrente No Il suo personaggio è diventato famoso grazie al calcio Sì Il suo personaggio ha mai giocato nella Juventus Mai Il suo personaggio è nato in Argentina Non è argentino Il suo personaggio è nato in Italia Il suo personaggio è italiano No non è italiano però Il suo personaggio è nero No Il suo personaggio ha giocato con una squadra italiana Sì Il suo personaggio ha giocato nell'Inter No no Non ha mai giocato Ha a che fare con il Napoli Sì Il suo personaggio è un difensore No È un centrocampista È belga No non è belga Non è Mertens È brasiliano No Spagnolo No È croato Io penso che sia del croato Amsic Io provo Il suo personaggio ha cinque fratelli Ma non lo so Ha la cresa Sì Ha una cresa Il suo personaggio è stato capitano di Napoli Sì Il suo personaggio ha un nome straniero Marek Amsic Beh in effetti Non è che sia proprio italiano È il nome però Marek Amsic L'ha trovato ragazzi L'ha trovato Ci ha messo un po' di tempo Però ha trovato Amsic Alla fine Quindi ragazzi Ci vediamo direttamente Tra poco Con una seconda domanda Sulla terza domanda Quindi Sì Sulla terza Sulla seconda domanda Quindi ragazzi Potrei scegliere Vediamo un po' Come un altro Sempre un altro giocatore Sempre della serie A Ma questa volta Potrei scegliere Un ex giocatore Che proprio secondo me Ha fatto un po' la sua storia Anche se purtroppo Fa parte di un'altra squadra In confronto a quella Che tifo io Ed è Francesco Totti Ragazzi Comunque è stato anche un buon giocatore Proviamo a vedere Se lo trova Il suo personaggio Il suo personaggio Gioca ancora a calcio No Non gioca più Il suo personaggio È femmina È maschio Il suo personaggio È italiano Sì Il suo personaggio Ha più di 35 anni Teoricamente Ne ha moltissimi Il suo personaggio Ha a che fare Con il mondo dello sport Sì C'è stato Il suo personaggio Ha giocato in una società Di calcio italiana Teoricamente Ha giocato in Italia Il suo personaggio Ha mai giocato Nella Juventus No Non ha mai giocato Il suo personaggio Ha giocato Nel Milan No Il suo personaggio È attaccante Il suo personaggio Attualmente Ha più di 50 anni No In teoricamente Ne ha più di 40 Ne ha 40 Qualcosa in più Il suo personaggio Vivi a Roma In teoricamente Penso di sì Il suo personaggio Porta la fascia Del capitano Non portava Una volta Il capitano Sì E ragazzi Perciò che L'abbia trovato Appunto Ma ha trovato Francesco Totti Incominciamo In teoricamente Adesso ragazzi Ho già la terza scelta E ho sempre Un altro giocatore Perché ragazzi Questo sarà Il primissimo episodio Sarà centrato Sui giocatori Ma sul secondo Ragazzi Fatemi sapere Questi toni Quali Quali Che volete Che andassi a cercare Tipo Non so Youtuber Qualcosa Che vi viene In mente Qualcuno Che volete Che vi metta A cercare Con Akinator Intanto Ce la straffo Tutti Ben 2 O 2 a 0 Quindi vediamo Un po' Il prossimo Ragazzi Sarà Buffon Ragazzi Buffon Essenzialmente Come polottiere Non è affatto male Però Proviamo A cercare Vediamo Un po' Che cosa Ci viene fuori Questo personaggio È in Italia Sì Questo personaggio È un calciatore Sì No Non è un attaccante Sì È un portiere Gioco Gioco Nella Juventus Purtroppo Sì Questo personaggio È stato Il capitano Della Juventus Purtroppo Sì Purtroppo Purtroppo Sì Ragazzi Purtroppo Sì E mi sa Che ce l'ha Indovinato Subito E si è Impallato Il gioco Ragazzi 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 Per cercare Buffon Che cavolo Ha fatto Che gli è Preso Cioè Ragazzi Per cercare Buffon Ha fatto Un casino Totale Però Però ragazzi Non c'è 3 su 4 E ora Cerchiamo Bonucci Esatto Ragazzi Ce l'abbiamo Fato Napoli Roma Juventus E Milan Cioè Ci manca solo La Lazio Però direi Adesso Di andare A cercare Bonucci Che Secondo me Compare Con la maglia De Milan Speriamo In bene Il suo personaggio È diventato Fomoso Grazie al Caccio Sì Come sempre Il suo personaggio È nato In Italia Sì In italiano Il suo personaggio Ha vinto Il 30 scudetto Con la Juventus Sì Il suo personaggio È bravo A giocare Come portiere No Il suo personaggio È il numero 10 Oddio Teoricamente Non lo so Il suo personaggio Viene Viene Da Catania No Gioca Nel Milan Sì Il suo personaggio Ha un ciuffo biondo No Teoricamente Ha una ferata In testa Il suo personaggio È capitano Di Serie A Teoricamente È diventato capitano Adesso Andrei Di una Cavolata Bonucci Ma Ho trovato Bonucci Solo Che Non c'è La schermata So d'acqua La faccia Però vabbù Già sta Già sta Raga Non ha la faccia Bonucci Però ragazzi Però ragazzi Dato che siamo qua Perché non cerchiamo anche I giocatori Della razza A sto punto Dato che ci siamo Mai ci siamo Fatti 5 domande E ci trovano Nessuno Cengale Sul calcio Il suo personaggio Il suo personaggio È giocato in una società Al calcio Italiano Sì È italiano Il suo personaggio No Non è giocato Nell'agri Il suo personaggio Sotto Nende Più di Tentale In teoricamente Non lo so Il suo personaggio È un po' Ha giocato nella Lazio Sì Il suo personaggio Ha giocato in pescara No Il suo personaggio È unico Teoricamente Non lo so Il suo personaggio È un ciclocampista No Il suo No Il suo personaggio Ha giocato nella Sevilla FC Non lo so Il suo personaggio Ha giocato una fascia Per i capelli O un cerchietto Non lo so Il suo personaggio Ha giocato nel Torino No Ed è sud Italia Non lo so Sinceramente Il vero Non lo so Ho giocato Ho cliccato No Il suo personaggio Ancora nel calcio Sì È nato in Italia Sì Il suo personaggio Ha giocato nel Napoli No Il suo personaggio Ha mai giocato Nell'Inter No Il suo personaggio Gioco come laterale No Gioco cincale Allora Ti ho detto Lazio Ciruzzo Immobile Però Con la maglia De Borussia Dortmund Non so In perché Non si sa bene In perché Ragazzi Ma c'era Con la maglietta De Borussia Dortmund Però Vabbè ragazzi Direi che questo video Direi che questo video È tutto Spero comunque Il video vi possa piacervi Abbiamo cercato Cinque giocatori Abbiamo cercato Malek Amsic Gigi Buffon Totti Bonucci Immobile Abbiamo trovato I cinque capitani Di cinque squadre Molto forti Ora ragazzi Sperto a voi Per il prossimo episodio Dimmi qui sotto Nei commenti Chi volete che cerchi Scrivendomi Hashtag Cerca questo E scrivetemi Appunto Il nome di questo Di questa persona Che volete andare Che vado a cercare Quindi detto tutto ciò Raggiungiamo come sempre I 10 like Per un prossimo episodio E ciao a tutti